Il piacere della lettora ci rimanda ad un'opera letteraria che racconta una figura che può incidere fortemente nelle elezioni politiche condizionando le votazioni degli italiani all'estero. Questa di cui parliamo è una storia vera, scritta come un romanzo e che racconta di un sistema capace di accaparrarsi il maggior numero di voti. Lo ritroviamo all'interno di Il Cacciatore di Plichi, l'ultima opera dello scrittore Maurizio Del Greco che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, una storia verità. Il Cacciatore di Plichi racconta dei misteri legati alla politica e ad un ruolo oramai istituzionalizzato. Sì, allora il libro racchiude la testimonianza di un Cacciatore di Plichi. I Plichi sarebbero le lettere che arrivano dal Consolato per le votazioni degli italiani all'estero. Sì, prego. Allora, nei momenti delle votazioni che si fanno in Italia, noi votiamo, noi italiani all'estero votiamo tramite Plichi, le votazioni per corrispondenza. E in questo periodo si avvicinano politici per accaparrare più Plichi possibili e autovotati. In questo libro sono racchiuse proprio a testimonianza dei Cacciatori di Plichi e come fanno le schemotage per recuperare più Plichi possibili. E sono infatti, negli anni passati, sono stati eletti senatori onorevoli con questo tipo di imbrogli. Naturalmente questo dimostra quanto l'uomo sia sempre più pronto davanti al denaro e disposto a sporcare anche la propria esistenza. Sì, certo. La cosa più grave è che coinvolgono bambini, perché ci sono dei bambini che vanno a prendere questi Plichi nelle buche della posta degli italiani. Oppure coinvolgono postini italiani che invece di bucare questi Plichi li tengono per loro e poi li danno ai politici. Senti, naturalmente è un'attività che dicevo prima è quasi istituzionalizzata, ma come funziona davvero? Aspetta, e da qui un attimino con noi abbiamo un piccolo tassativo, così poi lo spieghiamo meglio al nostro pubblico di mattina Nike. Grazie al vaccino l'Italia sta ripartendo, altrimenti eravamo ancora tutti chiusi in casa. I vaccini contro il Covid-19 sono il risultato dell'impegno senza precedenti della comunità scientifica globale. E hanno superato tutte le procedure di verifica della sicurezza, anche per i ragazzi sopra i 12 anni. E mia figlia, a 17, è già vaccinata. Il vaccino riduce anche del 90% il rischio di finire in terapia intensiva. Se non lo hai ancora fatto, dai fiducia alla comunità scientifica e fai il vaccino. Anche la terza dose. Se non siamo soli in questo universo, il vaccino vinciamo insieme. Facciamolo per noi. Senta, chiedevo come funziona l'attività dei cacciatori di plichi, come queste schede finiscono ai seggi, insomma, come diventano effettivamente poi dei voti validi? Allora, dal 2006 noi italiani all'estero possiamo votare per corrispondenza. Sono state quattro registrature, 2006, 2008, 2014 e 2018. In questo periodo, prima delle votazioni, arrivano dei politici oppure persone che lavorano per essi e avvicinano delle persone che stanno nelle comunità italiane, dove ci sono tanti italiani, e propongono a loro per ogni plico 5 euro fino ad arrivare a 15 euro. Ragionano tutti questi plichi, poi dopo si autovotono, nel senso che aprono i plichi, mettono la preferenza all'interno, li chiudono e li spediscono di nuovo al consolato. Poi il consolato li porta a Castelnuovo di Porto, a Roma, e vengono aperti e poi dopo chi ha più voti vince. Ma come diventano voti validi? Sono validi, perché sono delle buste che tu devi mettere il voto di preferenza all'interno, la chiudi e la mandi a consolato, il consolato la manda a Roma. A Roma poi vengono gli spogli che le aprono e poi chi ha più voti ha vinto. Senta, questa è un'opera che è ispirata in realtà ad una storia vera, perché tu stesso hai raccorto la testimonianza di un cacciatore di plichi. Che incontro è stato? Prima il suo pentimento, che si è pentito di fare questo perché gli hanno promesso dei soldi e poi alla fine i soldi non sono stati dati a questa persona come altre persone. Ho visto persone che lo fanno per soldi, più che altro, e poi non credono più alla politica italiana, perché noi italiani all'estero non veniamo nemmeno valutati, che noi siamo italiani di serie B e poi a prescindere dobbiamo pensare che noi, grazie a noi emigranti all'estero, abbiamo portato la cultura italiana e nel mondo, come la pizza che è famosa di tutto il mondo. Senta, però intanto questo episodio analogo è stato raccontato anche dai servizi delle Iene e a tappo apposito la Farnesina ha smentito con decisione. Filippo Roma ha fatto 12 servizi con delle prove, ma le Iene non trasmettono delle cose se sono fake news. Vuol dire che ci sono delle prove che hanno dimostrato che esiste, ma io penso che esisterà sempre. La cosa che dà fastidio a noi, che può darsi, può capitare anche mio figlio o mio nipote in questa trappola, perché loro offrono dei soldi e prendono dei cacciatori che vanno in cerca di questi plicchi. Adesso già si stanno organizzando per il 2023. Naturalmente, lo ricordo, la Farnesina ha smentito con decisione, tu intanto vivi in Germania, la situazione lì sembra essere diversa, esiste anche in Germania la stessa figura? No, qui è tutto diverso. Sono diverse le cose? Qui è tutto un altro mondo, infatti molti italiani stanno venendo qui in Germania a trovare lavoro, a loro fortuna, che poi non può offrire a tutti. Qui è tutto un altro mondo. Va bene, avremo modo di conoscere quindi quanto accade all'interno di questo tuo libro, Il cacciatore di plighi, dello scrittore Maurizio del Greco. Grazie per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo invece subito dopo la pubblicità con Gianluca Di Marzio. Restate con Mattina Live. Grazie. Grazie.